Ohioho, ciao a tutti ragazzi, io sono Vercions di Game in Tonight e benvenuti in questa nuova profile Oggi, profile di Fluffal Me l'avevate chiesta, vi ho accontentati E ragazzi, vi faccio presente che questa è la rec profile che ho utilizzato nel local report che avete visto questa settimana Cioè, oddio, la scorsa settimana del farolulico Quindi di conseguenza un local report pensato, cioè una lista pensata per quel local Infatti non vi farò vedere la side, proprio perché la side era pensata per i mazzi che pensavo ci potessero essere al local Perché ragazzi, al local sempre la stessa gente gira E avendo un gruppo Whatsapp, avendo un gruppo Facebook, avendo un canale Discord Si capisce quale mazzo si sta facendo la gente o meno Quindi di conseguenza sapevo che per esempio Drytron non l'avrei mai trovato Avrei trovato però Virtual World, Eldlitch e cazzi del genere In ogni caso ragazzi, parliamo di questo mazzo perché non porto la profile da un sacco di tempo Real praticamente non l'ho mai portata, a parte quella di Enrico Che portò all'epoca estremamente for fun e estremamente fatta male E quindi di conseguenza ragazzi, cosa farò? Dato che effettivamente è, a tutti gli effetti, la prima rec profile in real di questo mazzo Vi spiegherò tutto, come funziona questo mazzo e alcune interazioni che potrebbero esserci 40 carte di main, 15 di extra La side ovviamente è personale Cominciamo, 3x di cane Fluffal Lui è l'unica normal che ha senso del mazzo Perché sostanzialmente è l'unico mostro Fluffal che ha effetto su normal o special Quindi di conseguenza è forte Assolutamente 3x su normal o special ci permette di aggiungere un imp filo di scimitarra O un Fluffal dal deck alla mano Inoltre possiamo utilizzarlo in art ones per turn Vabbè, non mi sembra anche standard Sercino, fortissimo assolutamente 3x di pinguino Devo dire che lui come normal non fa tanto piangere Perché comunque non è male Assolutamente un 3x rimmancabile È un'acqua fata Tutti i mostri main Fluffal Fluffal dico, sono fata E poi ci sono gli imp E i pellici a spavento che sono le fusioni che sono demone Lui è acqua fata e durante la main Fluffal ci permette di evocare specialmente un mostro Fluffal dalla nostra mano eccetto lui stesso Quindi per questo dico non fa tanto cagare come normal perché comunque nel caso non vediamo il cane in nessun modo o non abbiamo nessun modo per prendercelo possiamo evocare specialmente Inoltre cosa che molti sottovalutano quando viene mandato al cimitero per evocare tramite fusione un mostro pelice a spavento possiamo pescare due carte e scartare una che non è per niente male come cosa Abbiamo tanti peschini in sto mazzo e lui si aggiunge al numero di peschini è veramente veramente un'ottima carta Sto giro ve le metto così le carte Poi due per Incominciamo con i due per Orso Fluffal Lui molto semplicemente lo scartiamo per settarci direttamente dal mazzo nella zona magia e trapole quindi per metterci coperta dal mazzo Venditore di giocattoli carta fondamentale del mazzo Possiamo offrirlo come tributo per evocare per scegliere una polimerizzazione nel cimitero e aggiungerla alla mano però questo effetto non lo utilizzeremo praticamente mai Praticamente lui lo scarteremo per prenderci venditore di giocattoli E col venditore di giocattoli di solito se ce l'abbiamo in mano ci andremo a scartare ali Due per Ho dovuto tagliare sull'ali, sull'orso, si lo so che molti direbbero Eh ma tre per, si è vero ragazzi però ho inserito un extender per andare primo che è molto rischioso però è anche potenzialmente molto forte Ali sostanzialmente è la carta che per eccellenza ci fa i plus perché bagniamo ali dal cimitero più un altro mostro Fluffal peschiamo una Poi possiamo spaccare venditore di giocattoli per pescare un'altra e venditore di giocattoli quando spaccato ci permette di andare quindi un più tre a tutti gli effetti Inoltre ali lo dobbiamo scartare di venditore di giocattoli praticamente sempre quindi di conseguenza scartando i venditore di giocattoli peschiamo Vabbè poi vi spiego il venditore di giocattoli in ogni caso carta fondamentale assolutamente Due per di delfino a più fabbricare ragazzi perché il suo unico effetto veramente forte è quello di quando è sul terreno possiamo scegliere come bersaglio un venditore di giocattoli nel cimitero Settarlo sul terreno e poi mandare un mostro Fluffal o imp filo di cimitare dal deck al cimitero Di solito ci manderemo se non abbiamo già ali e abbiamo per esempio la sepoltura sciocca di beni più lui Magari ci settiamo evochiamo lui effetto ci settiamo il venditore di giocattoli ci mandiamo ali dal deck al cimitero E poi in qualche modo quando avremo un secondo Fluffal al cimitero ci facciamo i plus dati da ali Fluffal più venditore di giocattoli Veramente molto forte inoltre avere pinguino sul terreno più delfino in mano equipale a fare Toda Lipo Quindi assolutamente forte Pecora monocopia non ne ho volute mettere di più Carina come carta molto forte come extender Se abbiamo abbastanza carte di extender in mano sulla normal di cane ci possiamo andare a prendere la pecora Che se controlliamo un mostro Fluffal almeno un mostro Fluffal però dobbiamo controllare soltanto mostri Fluffal Possiamo evocarla specialmente e inoltre possiamo attivare il suo effetto che ci fa rimbalzare un mostro Fluffal che controlliamo dalla mano Per evocare specialmente un imp filo dalla mano o cimitero che non è male come cosa Non è da sottovalutare perché se evochiamo dalla mano ok è comunque buono evocare dalla mano Possiamo triggerare effetti volendo Però ragazzi se non abbiamo la poli in mano vi dico Però evocare dal cimitero è un plus Perché se poi abbiamo la poli in mano e ci evochiamo catena dal cimitero Ci rimbalziamo per esempio il cane e facciamo la fusione a gratis polimerizzazione intendo 3 per di falce La nuova carta per fare fusione Sostanzialmente come quick effect ci permette di fare fusione da mano o terreno utilizzando lei come materiale più appunto mostri da mano o terreno Durante la main phase del nostro avversario Quindi effetto rapido possiamo fare fusione Ed evochiamo dall'extra legge utilizzando lei dalla mano e un mostro Fluffal dalla mano e o terreno Inoltre quando un mostro pelliccia spavento sta per essere distrutto Che controlliamo ovviamente possiamo invece bandire questa carta dal cimitero Che è molto 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 comoda come cosa 3 per ovviamente di imp filo di catena Molto forte estremamente forte è il mostro per eccellenza del mazzo degli imp E niente è fortissimo assolutamente Se va al cimitero in qualsiasi modo ci permette di aggiungere una carta pelliccia spavento dal decano a mano E inoltre molto simpatico perché ci permette praticamente di fare due fusioni a gratis E poi vi spiego il perché Imp filo di scimitarra è un'evocazione gratis dal cimitero Semplicemente rimischiando una dalla cima cioè dalla nostra mano alla cima del deck Possiamo evocarlo dal cimitero È simpatico È il target per eccellenza di tutte le carte che ci permettono di andare imp Quindi cane ci permette di andare scimitarra Il venitore di giocattoli ci permette di andare scimitarra Lui è quello che si può serciare più facilmente Ci vorrebbero più modi per serciare lui però rip pazienza E infine ultimo reparto Tre Xeed Ragazzi sono forti Sono forti gli Xeed dove li mettete li mettete sono forti Fanno da extender Sto mazzo gira molto sui link Quindi di conseguenza È forte assolutamente E inoltre ci c'è in locca Se per esempio noi utilizziamo catena più un altro mostro che abbiamo sul terreno Per andare a revocare un link Catena va al cimitero facciamo il link Catena 1 catena Catena 2 Xeed Catena è c'è inlocata e non ci può essere lasciata È molto 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 forte Serve a c'è in locale Serve a fare tutto Inoltre è un rank 4 gratis Oppure altri folder per fare Xeed Ultimo mostro Falce È fortissimo Ce lo spacchiamo nel turno dell'avversario Con balena E facciamo il cazzo che ci pare sostanzialmente In realtà lo chiamo l'ex adecca dell'avversario Ma vabbè Reparto magie La magia più forte del mazzo Ovvero venditori di giocattoli Mamma mia ragazzi Sta carta amore e odio Allora Una volta per turno possiamo scartare una carta Di costo E qualsiasi carta vogliamo Non necessariamente Fluffalo O Imp Per pescare una carta E rivelarla Se la carta che abbiamo pescato È un mostro fluffalo Possiamo evocare specialmente Un mostro dalla nostra mano Non necessariamente Il mostro che abbiamo pescato Ci fa plassare sul terreno Ci dà delle special Però la cosa forte È nel secondo effetto Tra l'altro Ragazzi Niente di questa carta È once per turn Quando questa carta Veniva andata al cimitero In qualsiasi modo Possiamo aggiungere Un imp Filo di cimitarra O un fluffalo Dal deck Alla mano Ragazzi Questi effetti sono fantastici Se noi abbiamo Tre venditori di giocattoli Sul terreno Possiamo attivare Tutte e tre gli effetti Per scartare tre E pescare tre E vedere cosa riusciamo a specialare Ovviamente Ragazzi Prima uno Dato che non si possono Accennare l'uno all'altro Prima uno Peschiamo Scartiamo Cioè scartiamo Peschiamo Se peschiamo Perché ci possono giocare Asha ovviamente Vediamo com'è andata Se non è andata bene Perché poi la carta Ci va scartata Ed è molto importante Come cosa Perché potenzialmente Questa carta Ecco perché amore e odio Ci può fare dei maieno In mano impressionanti E quindi possiamo attivarne Più di uno Invece Se riusciamo a mandarne Più di uno al cimitero L'effetto di serciata Parte su ogni Ogni volta Che viene mandato al cimitero Anche se Ce lo riprendiamo Di delfino E poi ce lo rimandiamo Al cimitero Per questo dico Assolutamente Carta importantissima Poi insieme Ad Ali E un altro Mostro fruffale Al cimitero Bagniamo Bagniamo Peschiamo una Spacchiamo un venditore Peschiamo un'altra Effetto venditore Dato che è stato Mandato al cimitero Ci addiamo Quello che ci pare Insomma Veramente fondamentale 3 per Di patchwork Pellice a spavento Hard ones per turn Sercino per eccellenza Del mazzo Ci aggiunge Una poli Più un infilo Qualsiasi E sostanzialmente Quello che andremo a fare Sempre di patchwork E andarci a prendere Catena Di solito 3 per Di polimerizzazione Avevo da qualche Altra parte L'artwork Vecchio di polimerizzazione Ma c'erano solo monocopia Quindi di conseguenza 3 per Di polimerizzazione classica Fondamentale Niente da dire 3 per Di Sepoltura Sciocca di beni Ragazzi Troppo importante A mandarci al cimitero Il Il venditore di giocattoli Oppure Un'altra carta Che vi mostrerò adesso Vabbè Fortissima Una volta per turno Nulla da dire 2 per Di frightful fusion 2 per Perché è assolutamente Searchabile Questa carta ci fa evocare Fusione bandendo Da terreno O cimitero Il che Non è troppo positivo È molto meglio Usare poli Però ragazzi Funziona D'extender Se abbiamo tutte e due Materie dal cimitero E ce la siamo presa Di catena Facciamo il cazzo Che ci pare Sostanzialmente Quindi di conseguenza Bandiamo catena Più un altro Dal cimitero Facciamo una fusione È veramente Molto molto forte Fusione pelliccia spavento Hard ones per turno Anche lei Poi Riparazione Pelliccia spavento Questa carta Se la vediamo in mano È abbastanza o meno Perché Non vogliamo vederla in mano Perché l'effetto che ha Per partire dalla mano È abbastanza meh Sì È un'evocazione special A gratis Dal cimitero Più o meno Perché Rimischiamo Un mostro fusione Dal cimitero Per Evocare Un mostro Fluffalo In filo Però È molto meglio Il secondo effetto Onestamente Abbiamo La La sepoltura Sciocca di beni Anche per Eventualmente Mandarci lei Però lei Ce la manderemo Sempre Del nostro Mostro fusione Per eccellenza Quando La bandiamo Possiamo evocare Specialmente Un mostro Fluffalo In filo Dalla nostra mano E quindi di conseguenza La possiamo bandire Per evocare special E avere una special In più Grazie sul terreno Insomma Molto molto buona Come carta E infine Una cold by the grave Perché serve Ragazzi Serve Questo è il main deck Da 40 carte Passiamo all'exa deck Dove vi presento Già la carta Più forte Più importante Del mazzo Due pair di balena Ragazzi Due pair di balena Adesso vi mostro Prima di tutto Tutti i pellici a spavento Due pair di Sabretut Uno pair di Kraken E uno pair di tigre Allora Forse Nell'oca L'ho sbagliato Un attimino Perché io ho messo Due pair di Fright for Sabretut A sfavore Di balena Per quale motivo Perché volevo Più potenziale Da OTK E Sabretut Ha più potenziale Da OTK Perché ci permette Di restare E aumenta l'attacco Il problema è Che delle volte Si può chiudere Facendo calamities Più Nel turno d'avversario Spaccare la falce E per fare quello Servono necessariamente Tre balene Quindi ragazzi Io cosa farei Dopo il torneo Leverei Un Sabretut Per mettere Una terza balena Adesso ce lo dirà La terza balena Però Vi sto facendo vedere La lista che ho giocato Al torneo Quindi al momento È questa la lista Che ho giocato Al torneo Quindi ragazzi Via un Sabretut Dentro una balena Il mazzo è perfetto Praticamente E vabbè Lui Sua evocazione Tramite fusione Ci permette Di restare Dal cimitero Un mostro fusione Per il ciaspavento E inoltre Tutti i mostri Per il ciaspavento Guadagnano 400 di attacco Cosa che si va a sommare Per ogni Sabretut presente Quindi se ce ne sono due Guadagnano 800 Tutti i mostri Frightfur Se ce ne sono tre Guadagnano 1002 Quindi di conseguenza Molto molto forte Inoltre Se viene evocato Utilizzando tre materiali O più È indistruttibile Di effetti O in battaglia La balena Fondamentale Sua evocazione Ci permette Di distruggere Una sul nostro terreno E una sul terreno Dell'avversario Motivo per il quale Ci possiamo spaccare falce Nel turno dell'avversario E bloccarlo fuori Dall'exarek E inoltre In quick effect Ci permette di Targetare Il nostro Frightfur Sul terreno Mandare Dal deck O hexadeck Una carta Pelliccia spavento E il mostro Targettato Guadagna La metà Del suo attacco Originale Cosa vuol dire Questo Che non dobbiamo Per forza Mandare un mostro Possiamo anche Abbiamo una balena Sul terreno Effetto balena Targettiamo le stesse Ci mandiamo Riparazione E balena Guadagna La metà Del suo Attacco originale Quindi Del suo attacco originale Si riferisce sempre Al mostro Targettato Quindi di conseguenza Balena Diventa Un 2006 Più la metà Del suo attacco 1300 Quindi diventa Un 3009 Se lo facessimo Sosabretut Diventerebbe Un 2004 Più un 1200 Quindi un 36 Per farvi capire Infine abbiamo Kraken e Tigre Che non sono male Kraken Vuole un mostro Vuole un mostro Infilo Più un mostro Fluffal Una delle funzioni Più generiche Però la funzione Più generica Che andremo a fare Di più Ovviamente È la balena Kraken Molto semplicemente È forte Perché ci permette Di mandare Non ci distrugge Quindi è una buona cosa Non può attaccare Direttamente Ma può effettuare Due attacchi Su mossi Durante la battle phase E non è male Come cosa Però Sostanzialmente Ragazzi Poi abbiamo Tigre Che ci permette Di spaccare In base ai materiali Che abbiamo utilizzato In ogni caso Ragazzi Queste servono più Per pulire il terreno Quelle importanti Per il tk Sono queste qua Successivamente Abbiamo il reparto link Monocopia di Dagda Monocopia di Punto Pecora Monocopia di Mascherina E monocopia di Apollo Usa Non gioco Vertanaconda Non gioco Dragoon Come avete visto Perché Dragoon E Vertanaconda Non ce li ho E se ce li avessi Ragazzi Anaconda Probabilmente la giocherei anche Dragoon Sinceramente La odio troppo Come carta Perdonatemi Ma non la giocherei Sinceramente Perché mi sa sul cazzo Come carta Anzi Se l'avessi sbustata L'avrei venduta assolutamente Allora Partiamo da Dagda E fortissimo Due mosse con nome diverso Quando viene attivato Un effetto sul terreno Quindi anche quando attiviamo Polimerizzazione E sta Dagda sul terreno Effetto Ci possiamo settare Un mosso artifact dal deck Come vedete Non ho messo Il Sanctum Ma Vabbè Ragazzi Ovviamente È scontato Perché Dagda Praticamente rende Il Sanctum Quasi inutile È fortissima Quel mostro Che settiamo Andrà distrutto Durante la end phase Dell'avversario Però Noi ce lo distruggiamo Da soli Punto pecora Secondo me Importantissima Carta in questo mazzo Soprattutto in una versione Senza Dragone Anaconda E ci permette Di plassare A cazzo sul terreno Insomma Molto 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 forte Mascherina Mascherina Perché ci permette Di fare Apolosa Nel turno Dell'avversario Con 3 o 4 Negazioni E 3 o 4 Segnalini In realtà È indistruttibile Da effetti Niente È veramente Molto forte Io non la toglierei Mai nella vita Assolutamente Reparto Xyz Vabbè Ragazzi Se sto mostro Dovesse essere bannato Il mazzo non muore Quindi Smettetele di dire Le cazzate Il going first Del mazzo Esiste comunque Grazie a Dagda Esiste comunque Grazie a tutto Il resto che può fare E Sì È forte Lui Assolutamente È fortissimo È di sicuro La prima scelta Che andrete a fare Però Ragazzi Il mazzo Da going first Non muore Da going second È nato per essere Going second Per piacere Non dire cagate Squalo Bahamut È Todali Lui Quando stacchiamo Il materiale Possiamo evocare Un mostro Xyz Acqua dal nostro deck Sì Dal nostro extra deck E andiamo a evocare Todali ovviamente Todali non ha bisogno Di staccare materiali Per negare effetti Molto molto forte Bahamut non può attaccare Quando attiva l'effetto Però È fortissimo Inoltre Tra l'altro Lui evoca acqua Di rango 3 inferiore Quindi vabbè Abbiamo solo lei Come target Quindi Inutile starsi a chiedere Queste cose Vuole due mostri acqua Di livello 4 Quindi È un'ottima cosa Stavo pensando Come extender Per fare lui Di mettere instant E il Madragon of the swamp Il fangodrago delle paludi Nell'exa deck Però Sono un po' stretto E con le donne La voglio togliere E poi vabbè Todali che Ho più in culo Ci permette di Ci permette di riciclare Ci permette di fare un po' Il cazzo che ci pare Insomma Poi abbiamo Dweller Assolutamente fondamentale Praticamente Sale il mostro Che quasi sempre Andremo a fare Di Exceed Se abbiamo la possibilità Di avere Exceed In mano Altrimenti Con Exceed Ci andiamo a fare Molto semplicemente Una mascherina Per andarci a fare Apollo USA Poi nel turno dell'avversario Comunque Carta fortissima Assolutamente E poi Infine Abbiamo Dugares Dugares Che in questo mazzo È tipo dio Perché ci facilita La OTK Se ci negano troppe cose L'avete visto Nel local report Ci permette di pescare due Scartare una E saltare la draw face Prossima Sì Può sembrare negativa Come cosa Però recuperare Due risorse Che magari possono essere Anche giuste Quelle che ci servono In quel momento Non è male Come cosa Io Non lo toglierei Onestamente È molto molto forte Secondo me Ragazzi Questo era Il mio mazzo Fluffal Vi ho spiegato Quello che Potevo Spiegarvi Il punto è Che questo mazzo Gioca di mani E quindi Di conseguenza Non ha Proprio Delle giocate fisse Mettiamola così Sì Sapete che Se vedete Il cane Più Un Imp Filo di catena Riuscite a Fare una combo Abbastanza decente Sapete che Se vedete Polimerizzazione In filo di catena È Un mosso Fluffal Riuscite a fare Almeno Calamities Quindi insomma Sapete che Se vedete In mano L'orso Più Ali Di certo Non avete Briccato Quindi di conseguenza Ragazzi È Assolutamente Un mazzo Che gira Molto facilmente Però È capace Anche di Briccare Molto facilmente Ditemi Se volete Delle mani Di prova Di questo Mazzo Andando Primo Perché Andando Secondo Vi ricordo Sempre che Non sappiamo In contro A quante Negazioni In contro A quale Board Possiamo Andare Se vi Posso far Vedere Una combo Tk Andando Secondo Però È una cosa Che È al caso Insomma Cosa ho messo Come side Per quanto riguarda il torneo Per darvi una piccola idea di side Le lancee ho messo Gli artefatti Perché Da sole spengono il turno A Virtual World Ho messo le Ghostbell Non si gioca Drytron da noi Quindi non ho messo Droll Almeno al momento Non si gioca Drytron E quindi ho optato per Cosmic Cyclone Dark Ruler No More E Evilly Matched Quindi scontraranno i pari Non più sovrano scuro E ciclone cosmico Però ovviamente ragazzi La side Dipende da voi E da cosa si gioca Appunto Nella vostra zona Ragazzi Ditemi Se vi piace questa lista Cosa ne pensate E Boh Se vi piace Fluffal Noi ci vediamo domani Alle 15 Con un nuovo video Ciao ragazzi Noi ci vediamo domani Noi ci vediamo domani Noi ci vediamo domani